Ciao a tutti ragazzi sono l'unico e solo e oggi siamo finalmente tornati su una reaction a night E' la seconda che faccio perchè la prima è uscita La prima è uscita 5 giorni fa, oggi è il 20 quindi è uscito al 15 E come avevo già detto io sono comparso in un video di night Non mi volete credere? Vedete con i vostri occhi Ragazzi vi dico soltanto che stopperò spesso perchè mi farò un sacco di risate Con il fatto che comunque in questo video io faccio un botto di ridere Cioè quindi raga vi farete un botto di ridere anche voi vedendomi perchè non sono proprio nelle mie vesti Cioè siccome lui ci aveva detto raga dobbiamo fare qualcosa di tamarro quindi non venite vestiti come andate di solito Venite un po' più tamarri e io l'ho accontentato Ma direi che adesso stiamo prendendo troppo tempo Partiamo con i video Raga Mi sei già visto ma non vi dico bene dove Mi fai raga ditemi che mi avete già visto Se non vi avete già visto vi do un indizio Ho le squalo Eccolo la raga 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 Ma quanto sono rapper qua Vi prego Che io elimino le prove Tu chi cazzo sai Io del rap sono il sensai Sei la dark e il diplo 7 Noi facciamo il diplo 6 Raga Guardate che sto cazzo di videomaker Gio che non lo sopporto Perchè abbiamo fatto tante riprese E prende le uniche in cui sono seduto lì Cioè ne abbiamo fatte tante ovunque E ha messo soltanto quelle lì Giusto dopo mi si vedrà non seduto Ma Dai Raga No dai No 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 Raga non riesco a vedermi così No raga vi prego Dai Un attimo Raga Dai che sono imbarazzante Guardate qua Sono veramente imbarazzante Vabbè continuiamo Tu che ne vuoi sapere Oni mia rima come un mitra senti ratata Oni mia rima come un mitra senti ratata Oh 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 Raga Boss della situa Dai Questo diventa copertina fisso Cioè Dai raga Siamo troppo un rapper lì Ehi bro I'm not illegal tra l'altro Con quella maglia lì veramente Che non la mettevo tipo davanti a guerra Perché la mettevo quando c'ho avuto 10-14 anni Che mi piaceva fare il fighetto che fumava Anche se in realtà io non fumavo le canne Cioè ma neanche adesso nel senso Cioè No raga non si fumano le canne Anche perché cioè Sono Fanno male Tanto male Quindi non No No Lascia morire da parte Chi vuol fumarsene se le fumi Io no E detto questo Continuiamo Questo è per i miei fra I miei fra I miei fra I miei fra Salto raga Guardate come cazzo è visto Con la nozza d'oro Occhiali Pantaloncini Maglia tutta tamarra Leosiris Raga Sto qua è un vero rapper Porco Zeus Salto che sfida e basta Raga Chi sono? Guarda ci faccio qui Mi hanno costretto Mi sembra Raga Sembra veramente che vi stai dicendo questo Cioè Sono Sono completamente Mi hanno fatto vedere Completamente sparesato Quindi io Cioè Sembro sparesato Ovviamente so Con la stovagione Però raga Sembrava Sembrava veramente Che non sapessi Cosa stavo facendo Che ero Lì di passaggio Mi hanno preso Mi hanno detto Senti Stiamo facendo Un video Viene anche tu dentro E io lì Con Magari un Tipo tossico col cane In giro Che Che Cazzeggiavo Poi mi arrivano Oh Facciamo un video Viene anche tu E io Boh Bella E non sapevo neanche Che cazzo era Però Non era così la cosa Perché mi aveva già chiamato Di bui giorni prima Però sembra veramente Che mi abbiano preso Di suo momento Raga Guardate Mi frego Cioè Vi faccio vedere da solo Dai Non è possibile Io non dovevo portare A sta reaction Non so perché la sto facendo In questo momento Dai C'è un sorriso di quelli Del tipo Ma io Esattamente Quante che hanno fumato Poco fa A 6.10 Poi tra l'altro Tutto il video al parchetto Poi all'ultimo Sta scena dello skate Ma proprio A caso Incubo I miei frappro 2 kg Regione montaggio Sera Official art From this way Grazie a Alberto Anton Mozzi Raga No Ripeto Raga Allora Io l'avevo Non l'avevo Anticipato Sta cosa Non l'avevo Devo imparare A parlare in italiano Non l'avevo Anticipato Sta cosa Spero che vi sia piaciuto Spero che vi sia piaciuta Sta reaction Io vi chiedo Di condividere il video Per favore Vi lascio In descrizione Il link Al video di Knight Per ascoltarvi La canzone integrale Visto che sicuramente Avevo fatto un sacco Di tagli Noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao a tutti Mi raccomando raga Pollice in su E porterò il video Con Knight